Oggi proponiamo la Casa Caio, un ex orfanotrofio costituito nel 1958 dalle suore Maria Bambina di Brescia e l'ha costituita da tre stabili, un ex chiesa, l'orfanotrofio in sé e una corte. Quando viene inaugurato questo orfanotrofio dalle suore, viene presidiato dalle suore e da Monsignor XIII fino alla chiusura nel 1990. Questo stabile è famoso anche perché per la leggenda del fantasma Lucilla, cioè una bambina che bruciò in una stanza che poi vi faremo vedere, capirete qual è, potrete indicare, che praticamente raccontava questa storia, questa morte, che purtroppo dovrebbe essere una leggenda perché è morta nel 49 e è stata inaugurata nel 58, però in questo è stabile, è un peccato vederla così, perché questa distruzione è inutile. E guardate tutto quello che è rimasto praticamente dell'ex chiesa e dell'ex orfanotrofio. E guardate tutto quello che è rimasto, La l'ammiglia è rimasto, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.